Buongiorno, allora, le lascio la nostra carta del ristorante, mentre Sherry gradisce magari un aperitivo, affrai un chiaretto dalla zona. Perfetto, grazie. Sono Andrea Costantini, chef di cucina dell'Hotel Regina dell'Aide, ristorante Reggio Patio, il nostro ristorante gourmet. Quest'oggi per voi abbiamo pensato di preparare due piatti che ultimamente ci rappresentano molto. Un dolce che in realtà noi presentiamo come un quasi dolce, perché è composto da della lattuga, quindi una cosa un po' insolita per un dolce. Che noi abbiamo deciso di servire con del miele, del cioccolato bianco, un gelato al miele e del polline. Oggi abbiamo preparato per voi un lavarello in una cottura un po' particolare, cotto su un legno di cedro. Siccome il lavarello è un pesce dalle carni molto delicate, abbiamo pensato di profumarlo col cedro, che è un agrume altrettanto delicato, che abbiamo trovato che si sposano molto bene assieme. Lo serviamo semplicemente con della patata all'olio extravergine del Garda, che è un'eccellenza locale, e una millefoglie di pane all'aglio nero, che è un aglio fermentato dal sapore molto delicato, molto particolare. Insieme a una piccola insalatina di erbe spontanee. iscriviti al nostro canale.